Chiamiamo ora sul palco il Dean, il professor Massimo Bergami, che ci presenterà uno speech intitolato Feed Forward e ci parla degli ambiziosi progetti per i quali servirà sostegno che BBS ha davanti a sé. Benvenuti a tutti gli studenti, le famiglie, gli amici, i mariti, i mogli e i partner, benvenuti alla nostra Pearson Community e agli ospiti. Diamo un caloroso benvenuto al dottor Tony Belloni che terrà il commencement speech e alla professoressa Francesca Gino, il suo sarà il keynote speech e sentiremo dopo qual è il titolo. Grazie al professor Prodi, grazie al presidente Vacchi, diamo il benvenuto ovviamente molto caloroso anche al nostro sindaco e grazie anche a Valeria che parlerà appunto per gli studenti. Penso ora agli studenti e agli alumni che non sono potuti essere con noi questa sera perché sono in altri paesi in giro per il mondo, non è importante che non siate qui con noi perché siamo comunque assieme e spero che ci stiate guardando via web e ciao a tutti, salve a tutti, vi vogliamo bene. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 tutte le variazioni del caso. E chi è un Master of Business Administration? È uno bravissimo nelle cose che avete appreso dai miei colleghi? Certo, ma non solo. La conoscenza delle tecniche è fondamentale, ma essere Master of Business Administration oggi è molto più difficile di quanto non sia mai stato. E non tanto per la quantità di cose che dovrete sapere, neppure per la variabilità dei contesti in cui vi troverete a operare. Variabilità che vi richiederà di essere bravi nel manager dell'incertezza, già citato. Non perché dovrete essere leader del cambiamento, pronti a integrare nuove tecnologie o attenti alla sostenibilità. Non è solo tutto questo. Essere maestri significa diventare punti di riferimento per altre persone. Ed è la cosa più difficile per un manager, anzi credo che sia la cosa più difficile in tutti i mestieri. La figura del maestro è un po' diversa da quella del leader. Il maestro è il più competente, insegna, si mette al servizio, discerne, riconosce i talenti, cerca di creare le condizioni perché questi talenti possano trovare la propria strada e possano diventare a loro volta maestri. Il vero maestro genera maestri. Il maestro insegna un lavoro, ma soprattutto aiuta a far sì che il lavoro sia quell'ambito multiforme di sviluppo personale in cui viene messa in gioco la creatività, la proiezione del futuro, lo sviluppo della capacità, l'esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri e l'atteggiamento di adorazione. Per chi crede il termine adorazione ha un significato ben preciso, indipendentemente dalla religione, ma anche in una prospettiva laica. Adorare è un concetto importante. Adorare è composto da ad a orare, rivolge la parola, denominativo di osoris, bocca, e secondo un'interpretazione l'adorazione è l'atto di riverenza fatto da un viandante verso una persona o cosa degna di rispetto, dinanzi alla quale passava, inchinandosi leggermente, toccando con la destra l'oggetto della propria riverenza, mentre la sinistra andava alla bocca, baciandola, e quindi agitandola verso l'oggetto che si tendeva a onorare. Questo segno di culto e di rispesto fu già usato in Oriente e in Egitto, quindi passo ai Romani. Il concetto di adorazione è presente anche nelle religioni, poi in tutte le religioni, anche se in forme diverse. Adorazione vuol dire che riconosco nell'altro un soggetto che merita la mia stima e il mio rispetto. Adorare non significa porsi al centro di tutto, ma riconoscere che l'altro esiste ed è essenziale per la mia fioritura umana, per usare un'immagine di Aristotele. Non è una cosa facile, almeno per me. Questa sera abbiamo degli executive che concludono il master e abbiamo dei giovanissimi. per gli executive si potrebbe pensare che è più facile, perché sono in condizioni organizzative che offrono maggiori leve. È falso. Essere maestri è più di un atteggiamento, è un modo di essere, è un modo di essere sul lavoro, anche quando siamo di fronte a momenti difficili. Io posso dirmi una persona fortunata, ho avuto molti maestri, la fortuna me li ha fatti incontrare e poi me li sono scelti. A volte non è stato facile farmi accettare. Ho avuto anche maestri più giovani di me, persone insospettabili, persone gerarchicamente, per usare questo brutto termine, sotto di me, persone che hanno interpretato il proprio ruolo con questo spirito. Ecco cosa dico a voi, master di Bologna Business School. Date tutto quello che avete perché possedete il talento e perché vi siete preparati per questo, ma ricordate che il vostro vero potere sta nell'essere maestri nel senso più alto. Portate il vostro entusiasmo, la vostra energia. Non arrendetevi di fronte ai numerosi ostacoli che incontrerete. Portate il significato vero del lavoro tra i vostri colleghi e nelle imprese in cui lavorerete, cioè creatività, proiezione nel futuro, sviluppo delle capacità, esercizio dei valori, comunicazione con gli altri e un atteggiamento di adorazione. Credo che questa possa essere una formula di felicità lavorativa e rappresenti contemporaneamente il miglior contributo che persone competenti possano dare alla competitività sana delle proprie imprese, contribuendo dunque alla crescita dell'economia e della società. Due brevi parole sulla scuola. Anche quest'anno siamo cresciuti, abbiamo superato gli 8 milioni e 3 di revenues, 10% di incremento, abbiamo fatto un milione e mezzo di fundraising, convertito in un milione e mezzo di scholarship nello stesso periodo. Sono stati distribuiti 2 milioni e mezzo dei prestiti sull'onore a tutti coloro che l'hanno chiesto e qui devo fare una piccola chiosa, brevissima, siamo pronti ad aiutare tutti coloro che saranno in difficoltà dopo il prestito sull'onore, ma saremo inflessibili verso chi infanga l'onore degli alumni di Bironia Business School. Il 90% della classe 2016-2017 ha trovato un'occupazione in sei mesi, abbiamo inserito in ogni master un corso sulla cultura digitale, sono partiti quest'anno 11 master full time in italiano e in inglese, un nuovo indirizzo del Global MBA, Supercars, Superbikes e Motorsport è in partenza a settembre, realizzato in partnership con Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Magneti Marelli, Maserati e Toro Rosso, 10 master executive, 3 corporate master di cui uno con Capgemini e uno con i neodirigenti di Ferrari che l'anno prossimo in quest'aula riceveranno il loro executive MBA. Sono nati alcuni nuovi master universitari, insomma Villa Guastavillani non basta più, stiamo lavorando per l'allargamento della sede, oggi non voglio fare annunci, però è abbastanza evidente capire quale sarà la direzione in cui ci espanderemo, posto che non vogliamo lasciare la villa. Ovviamente non è una cosa che possiamo fare da soli, soprattutto non è una cosa che vogliamo fare da soli, coinvolgeremo imprese, persone, istituzioni e poi avvieremo un progetto di crowdfunding con gli alumni. A me piacerebbe se tutti gli alumni fossero proprietari di un solo mattone della nuova sede e vorrei anche scrivere il loro nome su questo mattone. La sede dovrà avere un'aula dedicata agli alumni perché le loro attività sono destinate a crescere. Sul piano istituzionale abbiamo due nuovi soci fondatori che sono molto lieto di annunciare questa sera. È entrato nella nostra compagine istituzionale Automobili Lamborghini che vedo rappresentata da Umberto Tossini e la Society of Scholars che è un gruppo di docenti, docenti core e docenti storici della scuola che si sono riuniti in un'associazione per contribuire anche con liberalità alla scuola. Sul piano internazionale l'accreditamento EPAS del Master in Risorse Umane, l'accreditamento EPAS sempre del Global MBA per cinque anni. Oggi abbiamo completato la prima application per sottoporre la scuola all'accreditamento equis di tutta la scuola. Un anno fa avevamo annunciato che l'avremmo fatto, oggi abbiamo avviato formalmente il processo. Ribadiamo il nostro impegno per lo sviluppo delle persone, delle imprese e della società. In questo territorio ho fatto di imprese straordinarie a diversi stadi di sviluppo che condividono la passione per l'innovazione e la motivazione per la crescita. Quindi vorremmo essere il carburante della crescita delle imprese di cui ha parlato prima il Presidente Vacchi. Prima di chiudere grazie a tutti coloro che ci sono vicini e che ci aiutano, ai donors, agli sponsor o a semplicemente a chi viene a portare la propria esperienza nelle nostre aule. Ci sono molti manager, molti executive, molti imprenditori che vengono a condividere con i nostri studenti la propria esperienza e questo è uno degli elementi distintivi della scuola e noi li ringraziamo molto. Poi insieme agli associate dean desidero davvero ringraziare tutte le persone dell'università che contribuiscono sia sulla parte amministrativa sia su altre dimensioni, i nostri soci, tutti i nostri docenti e gli staff della scuola che fanno veramente un lavoro molto molto importante. A voi classe del 2018 rinnovo l'augurio di essere maestri, di portare nei luoghi di lavoro creatività, proiezione nel futuro, sviluppo delle capacità, esercizio dei valori, comunicazioni con gli altri e un atteggiamento di adorazione. E' difficile. Fare qualunque cosa è difficile, ma anche fare questa scuola è difficile. Tuttavia, come disse Martin Luther King, anche se sapessi che domani il mondo andrà in pezzi, vorrei comunque piantare il mio albero di mele. Cari classi del 2018, vi auguro il meglio e buon lavoro. Grazie mille. Grazie.